Ed eccoci qua di nuovo cari amici della Puglia Hotel, noi siamo sempre noi, sempre noi, guardate che belli con le nostre nuove divise, queste qua con il felicottero blu per i maschietti in rosa per le femminucce, sempre noi allo Europe Garden. Quest'oggi vi facciamo conoscere due bellezze che abbiamo qui quest'anno, questa settimana, la nostra Sara e Ivana. Eccole qua ragazze, da dove venite? Dalla provincia di Milano. Da Milano uno? Anche uguale. Ovviamente sono amiche, vedi tu, vengono insieme. Da dove possono mai venire? Se una viene da Milano, l'altra verrà da Milano anche lei. Ma allora sono qui da qualche giorno, noi abbiamo detto come ti stai trovando e allora abbiamo detto, mo ci vediamo che cosa ci vogliono dire nella nostra video recensione. Iniziamo da te. Sara, visto che io inizio sempre da destra per comodità, non perché, non ti preoccupare, sempre per una questione di comodo. Vieni, vieni, avvicinati, avvicinati. Sara, dimmi un po', come ti stai trovando qui da noi? Bene, benissimo, io infatti ho scelto a Puglia Hotel perché già il secondo anno, l'anno scorso mi sono trovata molto bene nel villaggio di Scalea e così ho deciso di tornare a provarmi qui, provando un altro villaggio. Ivana? Per me è la prima esperienza, tra l'altro in un villaggio, è un'esperienza molto positiva, mi piace, mi trovo bene e mi sto divertendo. A me no, a me no. E questa è andata. E allora, cari amici, anzi, diriteci un po', in generale, la consigliereste, consigliereste allo Europe Garden per la vacanza di altri? Assolutamente sì e in special modo anche per il miniclub, infatti i nostri figli li abbiamo abbandonati. Sono rimasti senza figli, sono orfane di figli. Li abbiamo abbandonati al miniclub che è super, ci piace. E vabbè, praticamente, cari amici, ce n'è per tutte le taglie, per tutte le età, per tutti i nostri ospiti, quindi mi raccomando, se volete stare bene, qui allo Europe Garden si sta bene. A pure hotel, ci vediamo presto. Ciao ragazzi, salutatevi. Ciao, ciao.